E' iniziata ieri pomeriggio, si concluderà questa sera la due giorni di festa organizzata nell'area ex Cofa del Porto Turistico per celebrare i 40 anni dei Pescara Rangers, uno dei club storici della Curva Nord. Un traguardo importante per il cuore del tifo pescarese, club nato nel 1976 e da allora sempre presente allo Stadio Adriatico in tutte le trasferte che hanno accompagnato il Delfino sin dalla sua prima storica promozione in Serie A. Tra birra, arrosticini e tanta buona musica, diversi protagonisti dell'ultima promozione non hanno voluto mancare l'appuntamento. Mescolati ieri sera con i supporters biancazzurri c'erano anche Vincenzo Fiorillo, Vitturini, Ventola, Aldegani, oltre al presidente Daniele Sebastiani che nella circostanza ha promesso un trattamento di riguardo ai fedelissimi del Pescara in vista della prossima campagna abbonamenti in partenza ai primi di luglio. Poi tutti sul palco per la consegna di targhe e riconoscimenti, oltre ad una bella pergamena realizzata per l'evento e l'impegno a portare sempre più in alto i colori biancazzurri. Questa sera è previsto il gran finale con la sfilata sul palco delle vecchie glorie delle Pescara e collegamenti video e audio con grandi personaggi di un recente passato che hanno scritto pagine indelebili nella storia del calcio pescarese che quest'anno compie 80 anni di vita.